Siracusa a Polfer rintrasse a 5 minori in ambito ferroviario nel periodo delle festività pasquali. 7 i minori stranieri rintracenati, di cui 5 dalla Polfer di Siracusa e 2 da quelli di Catania, e riaffidati su disposizione dell'autorità giudiziaria alle strutture da cui si erano arbitrariamente allontanate. Sostanzialmente sono 2.204 persone controllate, 9 indagati, 155 pattuglie impiegate in stazione, 24 a bordo treno, 26 lungo la linea ferroviaria, 29 veicoli controllati, 45 treni vigilati e 4 sanzioni. Il bilancio dei servizi predisposti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia nel periodo delle festività pasquali dal 6 al 10 aprile. Il previsto maggior afflusso di viaggiatori nelle stazioni siciliane, in particolar modo in quelle che servono le grandi città, le principali mete turistiche, è stato affrontato con l'organizzazione di un dispositivo di vigilanza gestito dalla sala operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie secondo i flussi dell'utenza e le necessità contingenti. I controlli hanno riguardato anche i capoline delle più importanti linee urbane di bus, delle linee regionali, nazionali e internazionali di autobus extraurbani, essendo le stazioni di Palermo, Catania e Messina anche importanti hub di interscambio tra diverse tipologie di mezzi pubblici.